Tag Heuer Aquaracer Lady, il design raffinato e femminile di Tag Heuer. Se sei alla ricerca di un orologio da donna che sia allo stesso tempo raffinato, femminile e funzionale, l'Aquaracer Lady di Tag Heuer potrebbe essere la scelta perfetta per te. Questo orologio è parte della linea Aquaracer, una collezione di orologi subacquei che ha fatto la storia del marchio svizzero. L'Aquaracer Lady ne riprende lo spirito avventuroso e lo adatta al gusto e allo stile delle donne moderne. L'Aquaracer Lady è un orologio che si distingue per il suo design elegante e minimalista, che lo rende adatto a qualsiasi occasione. La cassa in acciaio inossidabile offre una combinazione di robustezza e raffinatezza, mentre il quadrante luminoso con indici trapezoidali o con diamanti e lancette luminescenti garantisce la massima leggibilità. La lunetta girevole unidirezionale è un omaggio alla tradizione subacquea, con dettagli che richiamano le onde dell'oceano. L'Aquaracer Lady non è solo un orologio bello da vedere, ma anche un orologio performante e affidabile. Questo orologio ha una resistenza all'acqua che può variare da 200 a 300 metri, a seconda del modello, il che lo rende adatto a varie attività acquatiche, dalla nuotata in piscina alle immersioni subacquee. Inoltre, l'Aquaracer Lady ha un movimento al quarzo o automatico, a seconda del modello, che assicura una precisione e una durata eccezionali. L'Aquaracer Lady è anche un orologio personalizzabile, che permette alle donne di scegliere tra diverse opzioni di dimensioni, colori e materiali. Le dimensioni della cassa variano tra i 27 e i 35 mm, per adattarsi al meglio al polso femminile. I colori del quadrante vanno dal bianco al nero, passando per il blu e il grigio. I materiali utilizzati sono l'acciaio inossidabile, la ceramica o la madreperla. L'Aquaracer Lady è quindi un orologio che racchiude in sé tutte le qualità che una donna può desiderare. Design raffinato e femminile, resistenza all'acqua e alle condizioni estreme, prestazioni elevate e precisione svizzera. Se vuoi acquistare un orologio che soddisfa i requisiti estetici femminili, ma che propone anche funzionalità avanzate, il Tag Oyer Aquaracer Lady è il segnatempo perfetto per te.